...venire. Ripeto, è urgente. Firenze 12, ricevuto. Sono in zona, vado subito. Ancuna 20, ricevuto, vado subito. Dai, muoviamo, indiano. Sono in via Ofanto. Via Ofanto. Sto invocando Viale Tevere. Viale Tevere. Sono in via Tirto. Via Tirto. Mi dirigo su Viale Marconi. Viale Marconi. Sto attraversando la circonvallazione. Incrocio circonvallazione. Fuori. No. Asci. No. Fuori. Lasciate. Sono in quattro. Non mi lasciami. Tu pensa a quello. La Polizia. Andiamo. Presto, presto.